Il premio scientifico internazionale Capodorlando è stato conferito a Stefan Hell, il biochimico rumeno naturalizzato tedesco che ha messo a punto il microscopio a fluorescenza nel 2014, ha vinto il Nobel per la chimica. Il microscopio consente infatti di vedere su scala nanoscopica il comportamento di cellule e molecole e l'ha parlato delle sfide del futuro, sconfiggere malattie come il Parkinson, l'Alzheimer, il cancro. Il premio è organizzato dal Museo Mineralogico Campano.